Il cuore si può malare in molti modi. Innanzitutto il cuore può malarsi anche di cardiopatie congenite, cioè il bambino nasce già con una malformazione che può essere più o meno grave, da lievissima che non influisce in alcun modo sulla qualità, sulla durata della vita, fino alle forme più gravi che sono addirittura incompatibili con la vita. Per fortuna la cardiologia ma soprattutto la cardiochirurgia hanno fatto dei progressi enormi negli ultimi anni per cui molti di questi bambini possono trovare la soluzione del loro problema. Poi naturalmente c'è la cardiopatia ischemica che è un mondo molto ampio, si riferisce alla malattia delle arterie coronarie e si manifesta in vari modi, il più frequente di tutti come è noto è l'infarto del miocardio. L'infarto del miocardio che rimane una delle cause di morte più frequenti ma non l'unica e che anche esso ci ha regalato enormi soddisfazioni nel senso che la prognosi dell'infarto quando io mi sono laureato era molto grave, molto pesante, sia come mortalità iniziale, io ricordo che più o meno avevamo una mortalità del 15% delle persone che riuscivano a entrare in ospedale, mentre oggi si parla del 3%, 3-3,5%, ma soprattutto della qualità di vita successiva all'infarto perché prima restavano molto spesso degli invalidi e oggi l'invalidità per infarto esiste ancora ma è sicuramente più rara. Poi un'altra causa interessante secondo me perché meno conosciuta è lo scompenso cardiaco, scompenso cardiaco che può essere anche causa di un infarto ma anche no, può essere proprio il muscolo in toto malato, per esempio c'è uno scompenso cardiaco molto frequente nei pazienti che hanno sofferto di ipertensione arteriosa senza trattarla come avrebbero dovuto e poi ci sono degli scompensi addirittura con un cuore apparentemente normofunzionante, questo è un concetto un po' più difficile da spiegare, è un cuore che diventa più rigido sostanzialmente. Poi ci sono i disturbi valvolari, mi riferisco in particolare a due valvole, la valvola mitrale e la valvola ortica, la valvulopatia mitralica è diventata meno frequente negli ultimi 20-30 anni perché era legata a delle infezioni di tipo stretto cocico per cui grazie alla terapia antibiotica è rarissimo in età nel nostro paese che delle persone si possono malare di reumatismo articolare acuto e poi di cardiopatia reumatica, mentre molto più frequente la valvulopatia ortica che purtroppo colpisce una fascia di età molto elevata e i pazienti che vengono da noi in riabilitazione dopo un intervento sulla valvola ortica hanno come minimo 75-78 anni, poi arrivano i 90 anche 95 anni. Ecco direi che se noi tralasciamo un attimo le malattie aritmiche che sono una parte della cardiologia leggermente a sé stante, direi che abbiamo ricordato brevemente un pochino tutte le patologie del cuore. Grazie 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 Grazie